Popolo Rosso Nero e amici di AC Milan YouTube Channel, buongiorno, buongiorno a tutti, buon martedì Bene, prima di cominciare vi ricordo come sempre di iscrizione al canale, attivare la campanellina così rimanete sempre aggiornati sugli eventuali futuri video e un bel like che non guasta mai tanto è tutto gratis ragazzi, non vi preoccupate, non spendete un euro, nemmeno 10 centesimi differentemente da quando sta facendo qualcun altro Comunque, questa mattina il socio Gabriele vi ha fatto un video in cui vi ha spiegato il suo punto di vista come sempre professionale e preciso su quello che è la situazione del Milan su quello che è il possibile divenire del futuro anche a livello di allenatore vi ha parlato un po' della situazione Juventus-Blaovic che adesso andremo anche a parlarne anche noi, a fare una piccola precisazione per esploitare un po' tutte le motivazioni e tutte le preoccupazioni che avete riguardo al fatto che loro comprano e noi no bene, la notizia principale però è sicuramente quella che più mi preme perché guardo in casa mia, guardiamo in casa nostra è la proposta del Tottenham che si è fatto avanti per una cifra intorno ai 15-20 milioni di euro per avere subito che sì in questa sessione di mercato la cosa secondo me è improbabile, è difficile soprattutto per il fatto che ci sono di mezzo sempre procuratori e il procuratore in quanto tale vuole lucrare e guadagnare su questa situazione quindi cosa succede? succede che se lo prende adesso il Tottenham non può pagare chissà quale opzione al procuratore insomma fargli ingrassare un po' le tasche perché è la situazione diversa rispetto ad essere svincolato a zero però, c'è sempre un però nel senso che potrebbero trovare un accordo fra di loro e riconoscere al procuratore quello che vorrebbe pur di avere il giocatore subito dipende dall'urgenza che c'è un pochino la squadra perché se hanno urgenze lo vogliono subito perché hanno bisogno di fare un finale di stagione importante come lo è sempre stato anche quello del Tottenham potrebbero trovare un accordo spero solo che non vada a inficiare sul nostro introito che è già misero rispetto al valore reale del giocatore ricordiamo che che sì comunque ha un valore stimato intorno ai 50 milioni e 20 milioni già brucia un pochino perché lo stai praticamente depreciando lo stai regalando beh, ma come diceva qualcuno piuttosto che niente ragazzi è meglio piuttosto meglio 20 milioni che zero quindi è una situazione un po' in divenire una situazione che potrebbe concludersi felicemente per il ragazzo e il procuratore un po' meno per noi ma tutto può succedere stiamo bene attenti teniamo le antenne molto dritte per vedere quello che succede in questi ultimi giorni di mercato per il nostro mercato invece sta entrando finalmente le conferme sono sempre più veritiere anzi dovrebbe essere oggi a Milano tra l'altro per la firma e la visita del giovane Marco Lazetich ricordo giocatore di 18 anni ne ha già parlato ampliamente in un video scorso quindi inutile che sto qui a ripetermi è un'aggiunta in più un ragazzo che un attaccante giovane fresco di 18 anni che si va a giungere alla rosa viste le defezioni continue dei vari giocatori soprattutto in attacco dove abbiamo più difficoltà si potrebbe trovare una bella soluzione un giovane di grandi prospettive che speriamo torni subito utile alla causa situazione Juventus-Vlaovic molti dicono ma basta però non se ne può più una squadra indebitata come la Juventus visto che è indebitata intorno ai 200 milioni di euro non può permettersi di spendere 70 milioni per Vlaovic e non può pagare un ingaggio da 7 milioni al netto delle cose sarebbe praticamente un affare da 100 milioni com'è possibile che la Juve possa fare questo? è semplicemente possibile ragazzi perché la situazione Juve è totalmente diversa da quella del Milan la Juve sono 10 anni che è costantemente in Champions League sono 10 anni in 10 anni ha fatto se non sbaglio 2-3 finali correggetemi se sbaglio perché tanto non seguo la Juve non me ne frega niente ha fatto 2-3 finali Ronaldo comunque ha liberato uno slot e ha liberato anche 30-35 milioni quindi capiamo benissimo che tutti gli introiti avuti in questi anni della Champions tutti i campionati che ha vinto la Juve ragazzi la Juve è una stazione da questo punto di vista completamente diverso e si può permettere di fare quel tipo di mercato sì, se lo può permettere di fare differentemente da noi che sono anni che non siamo in Champions anni che non vinciamo nulla e quindi abbiamo un pochino più difficoltà nonostante i nostri conti sono comunque sani in questo momento sono sani spero ovviamente che questo conduca a una vendita imminente della società però loro possono fare questo discorso proprio per questo motivo perché hanno incassato più soldi hanno avuto più disponibilità economica e questo esula dal fatto che siano sotto i 200 milioni perché sicuramente hanno più possibilità di recuperare e di inserire soldi freschi e questa sostanzialmente è la differenza fra il mercato possibile della Juve e il non mercato anche se non lo giustifico del Milan che è ancora ferma al palo aspettando di poter avere almeno anche un difensore bene e questo è quanto per oggi ho fatto un video breve giusto per fare due spiegazioni anche perché la maggior parte delle cose le ha dette egregiamente Gabriele vi auguro buona giornata e sempre forza mila ci sentiamo domani ciao ragazzi a tutti grazie a tutti